L'uomo celebrando la domenica giorno del Signore riconosce e festeggia la presenza di Dio nel mondo e nel tempo. Per sei giorni egli è impegnato nelle opere terrene e nel settimo si dona interamente alle opere più importanti, adorazione e lode a Dio, comunione con i fratelli. Queste due attività spirituali e fraterne utilizzano la festa del Signore, anticipazione della festa dei Cieli. Nella lettera di Battaglia della Sei c'è un episodio di una lettera di un bambino di nove anni della Norvegia. La gente del mio paese non sorride più, neanche la domenica, quanto alle scarpe nuove ai piedi. Di notte le civette sui tetti non cantano più e gli alberi sulla piazza della chiesa sono stati tagliati e la gente non va più in chiesa a pregare perché non ha tempo. Nel ruscello non ci sono più i pesci e nei prati non ci sono più le farfalle. Poi il mio cane è morto e il mio babbo mi picchia. Quanto è triste questa lettera di un bambino di nove anni della Norvegia. C'è un'aria pesante, non si ride più e questo lo sperimentiamo giorno per giorno, specialmente quando la famiglia si riunisce per mangiare. Parla la televisione ma non parlano i membri della famiglia. Il riposo festivo è un giorno che viene paragonato come gli altri. Perché? Che cosa fare? Perché il riposo è festivo e le vacanze non diventano occasione di nervosismo o di degrado. Gesù, riferendosi agli uccelli del cielo che non mietano, vuol condannare il lavoro frenetico che rende l'uomo brutto e non gli permette di vivere da persona degna di essere chiamate figlie di Dio. Il precetto di santificare le feste afferma la libertà dell'uomo da ogni scavitù. Più che un limite è un dono. Questo è il giorno fatto dal Signore. Ralleghiamoci e esultiamo. Nella Sagra Scrittura abbiamo dei riferimenti specifici sulla santificazione delle feste. Gesù stesso ci dà la testimonianza dell'osservanza del sabato e si rivela Signore del sabato. Vivere la festa e pregare con i fratelli, essere evangelizzatori. L'esistenza dell'uomo è un alternarsi di preoccupazione e quiete, lavoro e riposo. Il riposo festivo è unirsi a Dio, è un creare un ambiente fraterno e distensivo e gioioso. Il Signore dice, osserva il giorno di sabato per santificarlo. La cultura contemporanea secolarizzata ha svuotato la domenica del suo significato religioso originario e tenta a sostituirlo con la fuga nel privato e con i nuovi riti di massa. Lo sport, la sagra, la discoteca, il turismo. Gesù dice, prendete e manciate, questo è il mio corpo. Come i discepoli di Emons, nel cammino triste e delusi e solo se Gesù si unisce e spezza il panno con l'oro noi possiamo riacquistare la speranza ed avere la vera gioia interiore. Come il corpo ha bisogno del cibo per vivere, così lo spirito ha bisogno della parola e dell'Eucaristia, cibo dell'anima. Gesù disse ai Suoi discepoli, come io vi ho amato, così amati gli uni con gli altri. La domenica possiamo far sentire ai fratelli nostro l'affetto e la nostra solidarietà, prendendo attenzione alle necessità degli ammalati, degli anziani e della stessa famiglia. San Francesco, abbracciato il lebroso, pur essendo ricco, divenne podero. Nell'incontro con lui Padre Pio, scherzandoci sopra, dice, eh già, voi siete il ministro del lavoro e noi siamo gli sfaticati. Prendiamo un passo di scherzo, una battuta scherzosa di Padre Pio, che pure essendo l'uomo dei dolori non cessa di creare gioia e armonia. A sera, quanto Padre Pio si ritirava e dava sempre a tutti la buonanotte, anche non solo agli ammalati, ma anche agli anziani, anche ai giovani. Mi raccomando, siate persone, frati di preghiera.